Ed ecco, ecco vediamo la carrozza che sta per condurre la regina Elisabetta fino all'House of Lords dove sua maestà darà lettura del nuovo programma economico che il governo intende varare. Riusciamo a scorgere il principe Filippo seduto al fianco della regina. Tanto piacere Lorella, tanto piacere pure a lei, io sono un'abbonata da tantissimi anni. Un abbonato ha sempre un posto in prima fila. Perché non mi fanno un po'? Buon Natale a tutti! Tra poco, da Euro Disney a Parigi, Clarissa Barth condurrà Buon Natale, amici, un programma natalizio dedicato ai ragazzi e ai bambini, ma forse perché no, anche agli adulti. Vi ricordo i sottotitoli che sono alla pagina 777 di Televideo. A voi una buona visione e un arrivederci più tardi. Oltre a scoprire scommesse impossibili e divertenti, si vincono premi miliardari con i biglietti della Lotteria Italia. Sabato le 12 scommesse semifinaliste si proporranno al vostro voto per conquistare i sei posti della finale del 6 gennaio. E i nostri ospiti questa volta si trasformeranno in concorrenti. E allora vi aspettiamo sabato alle 20.40 su Rai 1 con Scommettiamo Che! Sommettiamo Che! Sommettiamo Che! Allora, come va il tuo mal di gola? Bene! Benagol, la pastiglia che disinfetta la gola. Ehi, ma a proposito, e come va il tuo mal di gola? Bene! Benagol! Contro il mal di gola, Benagol. È un medicinale usare con cautela. No, non ce la farò mai! Con il gusto e le vitamine dei miei Frosties, la parte vincente della nostra colazione nutriente ce la farai! Il Frosties è una tigre! I miei Frosties? Fortissimi! Fortissimi! Con il gusto dei Frosties, che lo stai! Se la tigre è in te! È in te! Ci credo! Escoda! Apri ogni tua giornata in rosa! Il rosa di intervallo Proteggi Slip della Lines! Oggi è tutto nuovo! È ancora più sottile! Come una foderina di cotone! Vivi una giornata tutta rosa con intervallo Proteggi Slip della Lines! Nelle nuove pratiche confezioni! Ci credo! Escoda! Ma... E questo cos'è? È la morbidezza imbattibile di Vernel! Che è imbattibile? Lo so già! Sì, ma tutta questa morbidezza arriva dal nuovo Vernel Mini! Nuovo? È nuova la confezione! In due secondi si apre, con due dita si versa, e con l'acqua ecco due litri di Vernel! Così tanta morbidezza in una confezione così piccola! È così pratica! Vernel Mini, piccola confezione, morbidezza imbattibile! Sei sicuro che sia una buona idea? Senti, avrà lavorato tutta la notte e sicuramente vorrà fare colazione, così si ricorderà di noi! Io ti conosco, tu sei Babbo Natale! E io conosco te, sei Cristina! Ciao! Stamattina, come tutte le mattine, festeggiamo con Kellogg's Cornflakes! Dino R. Collofit! Collofit, giusto collo! E se va bene a me, buona camicia a tutti! Dino R. Collofit, proprio una camicia coi baffi! Ciao mamma! Ciao! Ho una fame! Io ho una mega fame! Oh no! Ancora! Che noia! E no! I carciofi, le verdure e i peperoni! Pepperlizia! Tanti nuovi contorni leggeri e saporiti, subito pronti, che arricchiscono tutti i piatti con gusto e delicatezza! La coscia con le verdure? Per me! E per me? Il petto con i carciofi! E per noi? Con i peperoni! Peperlizia Punti, il contorno firmato! Il petto con i carciofi! Acquapanna, per tutta la famiglia Acquapanna, la purezza non ha età Stasera allora c'è la festa Manca fantasia Fantasia? Fantasia di Pilitelpia Fantasie di Filadelfia Al salmone, erbe, pepe e roquefort Bellissimo, davvero un gran gusto Che buona Che fantasia, Kaori Filiterpia, fantasia Fantasia di Filadelfia Il gusto unico in quattro versioni Craft, cose buone dal mondo Caffè Splendid, oggi ti regala le calde chicchere Il servizio da caffè con l'esclusivo coperchio termico Per mantenere intatto tutto l'aroma del tuo caffè Caffè Splendid e le calde chicchere Il piacere di svegliarsi è servito L'occasione è sempre buona Quando è buono quel che mangio Il mio mondo è spensierato Quando il gusto è delicato Io sono un po' Calvè Ma oggi sono un po' Calvè Maionese Calvè, gusto a volontà Oggi sono un po' Calvè Andiamo in Edicola A prendere i nostri film più belli Sono quelli con i colori originali Il bianco e il nero La prima uscita in Edicola A sole 12.900 lire Curcio Editori Ed è la buona musica italiana Che vi preannuncia Caro Totò ti voglio presentare Domenica prossima Alle 20.40 su Rai 1 Caro Totò ti voglio presentare Una grande festa in onore di Totò Domenica prossima Ed ora Rai 1 vi propone Un eccezionale concerto Trasmesso in oltre 50 nazioni Natale a Vienna Con i Wiener Sinfonica Diretti da Vjekoslav Sutei Con Placido Domingo Jose Carreras E Diana Ross In esterofonia Nelle zone già raggiunte Da questo servizio A voi buon ascolto